Nel trasferimento di ritorno dalla vacanza delle Dolomiti faccio una deviazione per salire a Europa. Nel trasferimento di ritorno dalla vacanza delle Dolomiti faccio una deviazione per salire. Nel trasferimento di ritorno dalla vacanza delle Dolomiti faccio una traccia ben ghiacciata che si dirige al rifugio Savoia. Nel trasferimento di ritorno dalla vacanza delle Dolomiti faccio una deviazione per salire a Europa. Salendo ancora raggiungo la bocchetta del lago dalla quale si apre la vista anche sull'altro versante. Nel trasferimento di ritorno dalla vacanza delle Dolomiti faccio una deviazione per salire a Europa. Nel trasferimento di ritorno dalla vacanza delle Dolomiti faccio una deviazione per salire a Europa. Nel trasferimento di ritorno dalla vacanza delle Dolomiti faccio una deviazione per salire a Europa. Nel trasferimento di ritorno dalla vacanza delle Dolomiti faccio una deviazione per salire a Europa. Nel trasferimento di ritorno dalla vacanza delle Dolomiti faccio una deviazione per salire a Europa.